23.000 mascherine appartenenti alla categoria FFP2, risultate prive di idonea autorizzazione in procedura ordinaria oppure di idonea autorizzazione in deroga, come previsto dalla normativa emergenziale da parte dell'Inail, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Chieti che sono riusciti ad intercettare il materiale e a toglierlo dal commercio. Partendo da un'informazione in materia di dispositivi medici, i militari del nucleo PEF della Guardia di Finanza, unitamente ai carabinieri del NAS di Pescara, sono risaliti alla filiera distributiva individuando gli importatori che hanno portato in Europa i dispositivi direttamente dalla Cina. Le indagini hanno confermato i sospetti iniziali, ossia che alcuni soggetti della provincia di Chieti hanno fiutato l'affare e si sono attivati per reperire ed importare questi articoli in un periodo chiaramente di difficoltà e di emergenza come quello che abbiamo vissuto. L'esigenza di rinvenire in maniera urgente tali prodotti non ha consentito però di preoccuparsi della qualità dei dispositivi e di ottenere le autorizzazioni di sicurezza, scrivono gli investigatori, necessarie ad accompagnare questo tipo di dispositivi. In tempi di emergenza dunque continua l'attività di contrasto alla commercializzazione illecita di dispositivi di protezione individuale, privi di donne e certificazioni circa la sicurezza e l'affidabilità del prodotto. La merce è risultata accompagnata infatti da certificati rilasciati da enti non accreditati, ovvero non attestanti la loro conformità agli standard qualitativi, solo in presenza dei quali si sarebbe potuta immettere la merce in commercio.